Si diventa con tanti anni di marciapiede verde, nel senso che occorre avere un'esperienza, avere degli anni che ti portano a contatto con le piante continuamente, le piante sono soggette ad una evoluzione continua, le piante nascono, sono dei piccoli germogli, diventano arboscelli, diventano alberi e bisogna seguirli in tutto questo sviluppo. Quando tu hai piantato, hai seminato un semino e dopo 40 anni è un albero, tu sei un maestro al giardiniere perché l'hai assistito in tutta la sua evoluzione, dico questo ma può essere trasmesso alla rosa, può essere trasmesso a un arbusto da fiore, le piante, piantarle è roba da ridere, si fa una buchetta, si mettono lì dentro, si annaffia, si concima, è fatto, allora tu non sei un maestro al giardiniere, sei uno che ha fatto una buca, il giardiniere lo si diventa nel momento in cui queste piante sono seguite e quindi tu fai una potatura e vedi l'anno successivo come reagisce la pianta a quel tipo di taglio, se reagisce bene ci siamo perché magari hai letto un manuale o perché te l'ha raccontato un giardiniere esperto, se non reagisce bene tu hai capito che così non funziona e questo accade con il passare degli anni, si diventa maestro giardiniere con il passare degli anni, man mano acquisisci esperienza arrivi a un punto in cui quando hai vissuto 40-50 anni a contatto con le piante, se hai passione di cose ne hai imparate, però è fondamentale la passione, se c'è la passione tutto è possibile, se non c'è la passione è meglio fare l'imbianchino o il falegname che poi sono mestiere che anche loro hanno bisogno di passione.